Queste sono 360 pagine che raccontano 14 anni di rapporto di arte contemporanea. Arte contemporanea è vista anche come visione futura, come giornalismo, racconto visionario. Qui sono brevi racconti fotografici intervallati da scritti, da azioni poetiche, che raccontano un percorso che intravede nella mia creazione attraverso le mille sfaccettature dell'essere una persona attivamente sensibile, un impatico, in ultimo vi racconto ogni singolo foglio, perché dovrebbero fare una parecchia storia più bello. Per chi fosse interessato, i tre pesci e il puntore, 134 visioni melodiche. Grazie.